Buongiorno, ben trovati a due nuove diretta di mattina live, l'ultima di questa settimana. Cominciamo quest'oggi partendo con il format che bene conoscete, format linea alla scuola, che vi permetterà di conoscere tanti studenti presenti nel nostro territorio, che per l'appunto attraverso questo progetto laboratoriale stanno apprendendo le nuove arti per quanto riguarda il mondo del web, della televisione, ma soprattutto il mondo della redazione giornalistica. Quest'anno il format di linea alla scuola si amplia di un ulteriore tassello, ovvero dalla penna alla tv. Lo sapete, noi portiamo avanti questo format in collaborazione con Fondazione, Cultura ed Innovazione e oggi siamo felici di conoscere le ragazze dell'Istituto Comprensivo Statale Don Giustino Russolino di Napoli che si sono organizzate con la tutor Ilaria Mennosso che è qui con noi quest'oggi. Buongiorno Ilaria, ben trovata, ben trovata a te. Dunque conosciamo le nostre studenti, abbiamo Rosa Basso, buongiorno Rosa, Simona Boccia, ciao Simona, poi ancora Simona Di Pietro e Nadia Pellecchia. Buongiorno Nadia, come stai? Bene. Tutto bene? Pronte per raccontarci la vostra esperienza, un'esperienza che per l'appunto vi ha visto i protagonisti, con la nascita, la stesura di vari articoli, ma soprattutto con la conoscenza attraverso tre incontri di una vera e propria redazione giornalistica e l'area. Hanno appreso le prime arti, si sono approcciate appunto al cosiddetto ABC di questa disciplina, davvero tutta da scoprire. Che esperienza è stata per loro? Allora è stata un'esperienza che le ha entusiasmate tantissimo. Dal primo giorno le ho viste coinvolte in questa esperienza, e devo dire che poi l'entusiasmo e l'interesse è cresciuto di volta in volta. Io mi sono molto divertita a lavorare con loro, ho trovato una classe ben disposta, ricca di idee e soprattutto ho trovato un team vincente. Ho trovato veramente una sinergia che si incontra poche volte. Beh, si percepisce anche in questo momento, andiamo proprio a conoscere le loro esperienze. Partiamo da te. Che esperienza è stata Rosa? Che cosa ha significato per te conoscere una redazione giornalistica e da lì apprendere come redigere un articolo, come scegliere magari un titolo? È stata un'esperienza magnifica, perché la nostra tutor, Rilaria Mannozzo, ci ha proprio coinvolto nel progetto, ci ha fatto capire molto chiaramente le cose che dovevamo fare. Ecco, i temi che avete scelto sono... Il bullismo? Esatto, sono temi comunque di grande importanza e che in realtà riguardano proprio il vostro target d'età. Dicevi, il bullismo? E il cyberbullismo. E il cyberbullismo. L'uno in realtà oggi poi riguarda automaticamente anche l'altro. Ne vogliamo parlare un po' anche con te, Simona. Che tipo di esperienza è stata? Perché avete scelto di trattare il tema del bullismo e il cyberbullismo? Allora, è stata un'esperienza molto emozionante. Abbiamo scelto di parlare del bullismo e del cyberbullismo, perché è una cosa che accade spesso tra le persone della nostra età. Quindi era una cosa che ci coinvolgeva molto. Una cosa che riguarda la vostra età, perché magari avete anche appreso da amiche o amici episodi del genere, quindi è un tema che vi tocca davvero da vicino, Simona. Sì. Da dove siete partiti, Simona, perché in realtà avete lo stesso nomone, avete lo stesso nome. Da dove siete partiti per la ricerca del bullismo? Cosa ha significato per te lavorare in gruppo? Siamo iniziati soprattutto dalle notizie vere. E poi abbiamo continuato a scrivere a più o meno i ragazzi che sono stati convolti nel bullismo, soprattutto nelle parti molto più gravi, che erano, come dire, convolti... Che convolti in situazioni un po' più particolari. Quello che lei ha scritto nell'elaborato, le persone che poi purtroppo si suicidano per il bullismo, quindi vuole intendere questo. Puoi dirlo tranquillamente perché è una cosa della nostra realtà. A parte della nostra realtà è sicuramente qualcosa che a loro fa male, no? Perché anche ascoltare effettivamente o apprendere notizie di tal genere e vedere magari di quei tanti, ragazzi della vostra età, arrivare fino a questo punto, si comprende quanto effettivamente poi e con vostro compagno potesse stare male. E quanto però è il ruolo anche vostro, presumo, il contributo che ognuno di due può restituire nell'ascolto e nel cercare di capire quelle che sono le difficoltà del compagno, ma soprattutto come avete fatto voi nel parlarne, nello scegliere un tema e nell'affrontarlo per portarlo alla sensibilizzazione appunto dei lettori o comunque dei vostri compagni anche. Nadia, è così? Sì. Tu hai scelto anche tu il bullismo e il cyberbullismo? Sì, io siamo noi abbiamo lavorato in Cina. Come avete collaborato insieme? C'era chi sceglieva le fonti, c'era chi sceglieva l'articolo, c'è chi magari lo scriveva, come vi siete approcciate al testo? Ditemi qualcosa. Ci stava chi scriveva, chi era più a scegliere il titolo, chi guardava le foto per metterle. Un vero è proprio lavoro di gruppo, quindi chi ha scelto il titolo, chi ha scelto la fonte di diritto. C'era più, sì. Intanto, Simona, un argomento, dicevamo, molto delicato, da qui si apprende però qual è il ruolo, la funzione del mondo del giornalismo. È un mondo che ti affascina, lo conoscevi prima? È la prima volta che avete l'opportunità di toccarlo con mano da vicino? Sì, è la prima volta. È stato molto coinvolgente anche grazie alla Tutor, perché ci ha spiegato in modo molto chiaro quello che dovevamo scrivere, come si scriveva un articolo di giornale. Ilaria, ecco, da qui viene la parte un po' più difficile, no? Di chi deve appunto restituire la giusta linea guida che le ragazze appunto hanno dovuto seguire per portare avanti un progetto comunque di tutto rispetto. Sì, perché ogni volta, Mario, capisci, hai a che fare con delle personalità diverse, con delle storie di vita diverse, quindi ogni volta vai anche tu un po' a rapportarti, no? Quindi a mediare e questa è sicuramente una cosa che gratifica molto chi fa il nostro lavoro. Quindi ogni volta ti vai ad immergere in quelle che sono le loro caratteristiche, quindi cerchi di trovare un linguaggio, una predisposizione che sia poi consona, no? E dà fine a quelle che sono, per cercare di prenderle meglio sull'argomento. Questo argomento è un argomento molto interessante, purtroppo è un argomento di cui si deve parlare ancora tanto, perché tanti sono gli episodi, vero Simona? Come appunto prima ricordavi. Che cosa avete capito però voi? Cos'è che bisognerebbe fare in questo momento? È importante, ecco, se un vostro compagno si trovasse in questa difficoltà, che cosa direste voi? Dovremmo chiamare un adulto. Se è bullismo denunciare alla polizia, se è sempre bullismo denunciare alla polizia postale. Però molte volte non si ha coraggio di farlo. Non si ne ha coraggio, perché hanno paura. Si ha paura. Dobbiamo... Intercettare noi, no? Sì, dobbiamo starci vicino e cercare di levargli la paura di dosso stando con lui. La paura, la paura è quella che immobilizza, Simona. Hai avuto qualche esperienza da parte di qualche amico tuo, o magari hai vissuto in prima persona, e quindi è un tema che senti di portare avanti. Magari, ecco, questa è stata l'occasione, però magari chissà, il mestiere del giornalismo ti servirà appunto per essere la voce dei tanti che non possono esprimere le proprie paure, le proprie difficoltà, i propri disagi. Sì, anche io infatti a volte vedo molte persone che vengono prese in giro e cerco ovviamente di allontanarli, i bulli cosiddetti, così chiamati, e cercare comunque di dargli una mano, parlare, cercare di dargli un aiuto per parlare soprattutto con gli adulti, perché uno ha paura di quello che può fare il bullo. Di quelle che possono essere le conseguenze. Però restare silenti comunque vuol dire in un certo senso partecipare passivamente, vero? Però magari bisognerebbe anche poi stare dalla parte dei bulli, perché molte volte questo atteggiamento non è altro che una forma di attenzione e quindi che nasconde tante fragilità. Ne abbiamo parlato, adesso sono un po' emozionate, come puoi ben vedere, Mario, ma ne abbiamo parlato tanto, perché abbiamo proprio fatto attenzione al fatto che spesso, come avviene purtroppo, in tutti i casi di violenza e di potere, avviene sempre questa cosa, spesso si dà colpa alla vittima, o magari si dice a delle caratteristiche per le quali si trova in quella condizione. Si è trovata in quella condizione, però non è così. Sono delle dinamiche psicologiche molto profonde, ma bisogna lanciare chiaro questo messaggio, non bisogna perdonarsi, non è mai colpa del bullizzato. Esatto, non esiste alcuna giustificazione, insomma, in merito. Intanto, complimenti per la scelta dell'argomento, vi ritroverete a voler ripetere questa esperienza? Sì, però... Eccola. Però? Non è proprio un nostro... Cioè, non è proprio un nostro... Vabbè, sì, piano piano, insomma. Perché Mario è un'attrice. Ah, va bene. Comunque è un'arte che ti servirà, magari ogni arte può servirvi prima o poi, quindi complimenti comunque per come l'avete portato avanti, perché sicuramente non è facile essere dei giovanissimi e effettivamente riuscire a maturare coscienza e capacità critica con argomenti molto importanti non è da tutti. Quindi complimenti comunque. Grazie, grazie alle ragazze dell'Istituto Comprensivo Statale Don Giustino Russolillo, organizzatesi appunto in tutor con Ilaria Menozzo e grazie alle nostre studenti pubblicitarie. State con noi.